Tra le uscite più interessanti dello scorso anno, soprattutto in ottica seinen, non si può non citare lo straordinario Randagi. Raccolte in quattro volumi, allora volta collezionati nel cofanetto edito J-pop. Randagi è stata, almeno per me, una delle esperienze manga migliori fatta nell'ultimo anno, tanto che non appena è uscito gli ho dedicato qui sul canale un intero video, ve la lascio linkato sia qui che in descrizione. Ora, non si tratta di un'opera priva di difetti, di un'assoluta rivelazione, ma nel complesso ci troviamo di fronte ad uno slice of life, ovvero sia al racconto di uno spaccato di vita sicuramente originale. Si tratta di un manga che toccatemi per nulla scontati o superficiali, che si accompagna però ad uno stile grafico molto particolare, semplice, minimale, molto pulito, connotato da forme morbide, soprattutto nella rappresentazione dei soggetti. Insomma, uno stile peculiare che rimanda subito al suo autore, Keigo Shinzo. Ed è proprio qui che volevo arrivare, perché è arrivato il momento di continuare il nostro viaggio tra le opere del giovane maestro Shinzo. Un viaggio purtroppo limitato, perché se ad oggi il mangaka ha dato alla luce una decina di pubblicazioni più o meno, qui in Italia le opere tradotte sono meno della metà. Però non deve interessarci perché penso che piano piano arriveranno, visto il successo di ogni singola pubblicazione che viene portata qui da noi. E oggi voglio parlarvi di quella che penso che rimanga la sua opera più famosa, o almeno quella attraverso cui molti di noi lo hanno conosciuto. Un'opera che soprattutto dal punto di vista del registro si distacca, si allontana da Randaji. Sto parlando ovviamente di Tokyo Alien Bros, manga datato 2015 e raccolto in tre volumi, nella collana showcase di Dinit. Ora, prima di immergerci tra le pagine del manga, una brevissima premessa. Questo video sarà completamente privo di spoiler. Le parti di trama che toccherò nell'analisi saranno relative soltanto ai primi capitoli, a quegli eventi necessari per capire di cosa parli il manga e di dove voglio andare a parare. Se voleste recuperare i tre volumi, vi lascio linkati in descrizione i link Amazon per farlo. Vi ricordo che acquistando tramite i link, per voi il prezzo rimane standard, mentre una piccola percentuale arriva al canale. Io vi ringrazio in anticipo. Bene, detto questo, possiamo finalmente immergerci tra le pagine dello straordinario Tokyo Alien Bros. Come è facilmente intuibile dal titolo dell'opera, siamo a Tokyo, in Giappone. È una notte serena quando il cielo del canto viene solcato da un meteorite, una piccola palla infuocata che si perde sopra la capitale. Teniamo a mente questo breve evento perché ci tornerà utile tra pochissimo. Ma adesso spostiamoci sulla presentazione del protagonista dell'opera, o meglio, di uno dei protagonisti, Fuyinosuke Tanaka. Si tratta di un ragazzo, di un universitario, di bell'aspetto, spigliato, sicuro di sé. Insomma, un ragazzo che, nonostante non abbia particolari doti, si distingue molto facilmente tra gli altri. E infatti, mentre ci viene mostrato intento a partecipare ad un evento universitario, Shinzo gli crea attorno un'aura, diciamo, positiva, quasi ingiustificata. Tutti i compagni e le compagne sono attratte da lui, è letteralmente una calamita. Peraltro, queste brevi scene ci danno modo di capire un aspetto che accompagnerà il manga per tutta la sua durata. Questa è una storia che non si prende troppo sul serio e che fa della componente comica, umoristica, un forte perno attorno a cui ruotare. Ovviamente, questo non vuol dire che non conterrà momenti profondi. Vuol dire che sfrutterà più volte l'assurdo per portare avanti una narrazione tutt'altro che pesante. Ma per capire bene questo aspetto dobbiamo immergerci meglio nella storia. E quindi continuiamo a seguire Fuyinosuke che, proprio nel punto dove lo avevamo lasciato, incontra una ragazza prima sconosciuta, alla quale riesce subito a strappare un appuntamento. I due fanno quello che devono fare. Peraltro ancora una volta Shinzo si lancia in alcune scene davvero particolari. Ma è in questo momento che assistiamo ad un evento che ci fa capire che in realtà stiamo seguendo un protagonista molto più particolare di quello che si possa pensare. Fuyinosuke e la ragazza vengono interrotti dall'intromissione di uno strano essere. Una sorta di creatura gelatinosa, senziente, con occhi e bocca. Il dettaglio assurdo però è che quell'essere altri non è che il fratello maggiore di Fuyinosuke. Fuyinosuke infatti non è altro che un alieno mandato in missione sulla terra da un'altra civiltà per indagare sulle risorse alimentari e sulla popolazione terrestre. Per un'eventuale migrazione del popolo alieno sul nostro pianeta. Il fatto che si presenti con le fattezze di un ragazzo è dovuto alla capacità di questa razza di cambiare forma a piacimento. Fuyinosuke però è ormai da tempo che non manda comunicazioni al suo popolo. Ed è per questo che è stato mandato suo fratello a supervisionare il suo operato. Il meteorite visto in apertura di volume altro non era che l'arrivo del fratello. Ora per quanto raccontata così sembra di trovarsi davanti ad una storia dal DNA profondamente fantascientifico. Non è proprio così o almeno lo è solo in parte. Una volta che anche il fratello avrà adottato una forma e un'identità umana, da adesso in poi infatti lo chiameremo Natsutaro Tanaka, capiamo che il manga ha intenti ben diversi. Con la scusa di mantenere Natsutaro sulla terra per supervisionare Fuyinosuke, l'autore non farà altro che inquadrare diversi personaggi, situazioni, luoghi, vicende attraverso gli occhi di figure completamente strane regalando al lettore una prospettiva inedita e talvolta assurda su storie e persone in fin dei conti comuni. O forse è meglio dire prospettive perché in realtà i fratelli tra loro risulteranno essere molto diversi. Ora sembra strano dirlo ma in realtà è così. Tokyo Alien Bros come molte altre opere a target seinen e non solo utilizzerà l'espediente fantascientifico per esaurirsi in realtà in una sorta di slice of life ma questo non vuol dire che non ci troviamo davanti ad un'opera ambiziosa anzi semplicemente è un'opera che usa un presupposto per fare altro ma non è l'unica. L'aspetto più interessante però come detto risiede proprio nella diversità tra i due. Una diversità sia caratteriale che di condizione. Fuyinosuke che è sulla terra da più tempo di Natsutaro farà da Cicerone a suo fratello. Gli farà scoprire non solo diversi luoghi ma anche e soprattutto nuove persone e usanze terrestri sconosciute. Anche se in realtà è proprio qui che Shinzo deciderà di inserire i momenti più divertenti dell'opera. Fuyinosuke nonostante si sia inserito perfettamente nel tessuto sociale terrestre non si rende conto di fare cose ancora bizzarre per gli umani e posso farvi mille esempi. Il cane che adotta lo chiama semplicemente cane evidentemente non sa di dover dare un nome agli animali domestici. Mangia e beve alimenti per noi non commestibili senza rendersene assolutamente conto e questo per quanto riguarda solo Fuyinosuke. Natsutaro farà molto di peggio. Lui è completamente all'oscuro degli usi e costumi umani. Potete solo immaginare questo che cosa voglia dire e infatti per questo motivo sarà protagonista di alcune delle scene migliori dell'intera opera. Ovviamente però se la componente comica spesso esaurita attraverso piccoli eventi e siparietti è un elemento fondamentale del manga non è l'unico. Fuyinosuke e Natsutaro saranno protagonisti di una storia vera e propria. Una storia che partirà proprio dalla necessità di Natsutaro di immergersi nel tessuto sociale, in questo caso di Tokyo, e dal conseguente approccio con le persone, che esse siano nuovi personaggi o appartenenti alla cerchia di conoscenze del fratello minore. Peraltro, e qui mi fermo se no rischio di fare veramente troppi spoiler, l'ambientamento di Natsutaro, la sua reazione alla gente e agli usi terrestri sarà un elemento di trama fondamentale da cui dipenderanno molte cose. Ma di questo parleremo meglio tra pochissimo. Ora facciamo un piccolo passo indietro, perché per completare lo sguardo d'insieme su Tokyo Alien Bros non bisogna mai dimenticare che è di due alieni che stiamo parlando. L'espediente dell'origine aliena non mancherà mai di aggiungere quel lato folle all'opera. Esempio, una cosa che rende diversi gli alieni, o meglio questi alieni, dagli esseri umani è l'assoluta intolleranza al sale. Sarà davvero divertente vedere Natsutaro sciogliersi inconsapevolmente per aver toccato del sale, perdere parte del viso, delle braccia. Ed è proprio qui che tornerà quell'elemento assurdo che non lascerà mai il manga e che anzi sarà parte integrante della sua espressione. E fidatevi, essere guidati nella storia da due figure così particolari, fuori da qualsiasi logica, è un elemento che rende Tokyo Alien Bros perlomeno un'opera diversa. Non è solo l'elemento grazie al quale la storia si esaurirà, ma è anche il mezzo in cui il manga trova la sua unicità. Insomma, Tokyo Alien Bros è sicuramente un'opera sopra le righe, uno slice of life che fa della componente comica, di quella umoristica, di quella anche nonsense, elementi portanti. Eppure nella sua leggerezza, il manga non mancherà di regalarci riflessioni per nulla banali, senza fare eccessivi spoiler, rimanendo comunque ancorati ai primi capitoli. Sono diverse le scene in cui Natsutaro si troverà ad avere a che fare con gli esseri umani, scene in cui viene completamente ribaltato il cliché dell'alieno freddo conquistatore di mondi. Anzi, Natsutaro sarà vittima delle emozioni umane, almeno in un primo momento per lui completamente incomprensibili, aiutato dalla capacità di poter leggere la mente delle persone semplicemente sfiorandole. Natsutaro potrà testare la collera, la delusione, l'ira, tutte emozioni a lui sconosciute e che lo renderanno paradossalmente vittima impaurita di quelle stesse persone che in teoria il suo popolo dovrebbe conquistare. E per quanto possa sembrare un elemento stupido o superficiale, fidatevi che sarà trattato perfettamente. Sarà uno di quegli elementi che riusciranno a mantenere l'opera in piedi. Ovviamente, e qui mi fermo, Foyunosuke, ma soprattutto Natsutaro, non sperimenteranno soltanto emozioni negative e viscerali, ma anche quelle più spontanee, più positive. E tutto questo attraverso una serie di personaggi e vicende sempre diversi. La trama raccolta in questi tre volumi vedrà i nostri fratelli interfacciarsi con situazioni alle volte diametralmente opposte tra loro, ma tutte trattate molto bene. Al netto, secondo me, di un finale non troppo azzeccato, o almeno io non l'ho amato particolarmente, ma sono dell'opinione che un'opera non si giudica solo in base al finale, ma anzi in base al viaggio che fa fare. Ovviamente non posso fare spoiler, ma se voleste con un commento qui sotto ne discutiamo. Ora ci sarebbe molto altro di cui parlare, soprattutto del modo in cui questi espedienti narrativi sono in realtà soltanto delle metafore, ma tutto questo lascio scoprirlo a voi. Prima di lasciarvi però un paio di considerazioni sul lato tecnico del manga. Come abbiamo già visto nel video dedicato a Randagi, lo stile che contraddistingue le opere del maestro Kaigo Shinzo è quantomeno peculiare e secondo me trova la sua massima espressione proprio in questo Tokyo Alien Bros. Ora, partendo dalle caratteristiche più immediate del disegno davanti al quale siamo messi, possiamo subito accorgerci che i soggetti sono perfettamente armonizzati negli spazi che popolano. E questo perché Shinzo non ricerca una nota realistica in nessuna delle due direzioni. Sia i personaggi che gli ambienti seguono uno stile semplice, morbido, caratterizzato da un tratto forte in cui spiccano soprattutto i contorni e ricco di linee e forme imprecise, retini spesso assenti e usati in maniera corposa solo nelle scene notturne. Ovviamente non sto dicendo che si tratta di tavole abbozzate, anzi, alcune saranno densi di elementi e molto complesse nella composizione, ma comunque trattate attraverso quella semplicità che permea tutta l'opera e più in generale tutta la produzione di Shinzo. L'elemento che poi mi fa protendere nel preferire Tokyo Alien Bros. a Randagi dal punto di vista grafico è in realtà uno solo. In Tokyo Alien Bros. la città ha un ruolo infinitamente maggiore. Tokyo rivestirà un ruolo fondamentale nella vicenda. I parchi, i templi, i grattacieli, gli enormi incroci, le vie di Akiabara di Shinjuku saranno protagonisti dell'opera tanto quanto i due fratelli. E ripeto, non serve ricercare chissà che tipo di realismo nella realizzazione degli spazi. Per questo tipo di storia, per questi protagonisti, gli ambienti descritti da Shinzo sono essenzialmente perfetti. Sarà molto bello perdersi nella sua Tokyo, della quale peraltro ci fornisce uno sguardo tutt'altro che superficiale. Anche gli interni che metterà in scena sono molto interessanti, a partire da quello che sarà un po' lo spazio cardine della vicenda, il caotico appartamento di Fuyunosuke, teatro di moltissime scene e in un certo senso specchio della personalità del suo padrone. Ovviamente c'è un po' da abituarsi a questo tipo di tratto, soprattutto se si viene da letture diciamo più convenzionali. Ma almeno per me, sin dalla prima lettura, è stato un elemento che ha aiutato a rendere questo Tokyo Alien Bros. una perla inaspettata. Se leggeste ad esempio Holiday Junction, una raccolta di storie proprio di Shinzo, antecedente Tokyo Alien Bros, vi rendereste conto di quanto venisse da un tratto ancora più rude, che poi in randaggi va a trovare un'espressione più fine in un certo senso. Anche il link a Holiday Junction ve lo lascio in descrizione. È una raccolta molto interessante, sempre per showcase di Dinit. Ma al di là di questo, il nostro viaggio in Tokyo Alien Bros. finisce qui. Spero di avervi curiosito e di avervi avvicinato ad un'opera secondo me molto molto interessante. Un'opera davvero valida sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo. Insomma, un'opera che banalmente si fa leggere molto bene. E che tra risate e momenti assurdi, non manca di lanciare qualche messaggio al pubblico. Ora però devo proprio fermarmi. Se aveste già letto il manga, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto. Sempre stando attenti agli spoiler. Ricordo che in descrizione trovate il link per recuperare i tre volumi e Holiday Junction. Non dimenticate poi di iscrivervi al canale e di seguire le altre pagine social. Anche loro linkate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.